Quattro ausiliari del traffico in servizio a Merate, un'arma contro i furbetti della sosta che con pochi centesimi di euro occupano per ora i parcheggi del centro città. La giovedì 1 marzo però per loro non ci sarà più scampo. Il comune Brianzolo potrà infatti contare su inflessibili vigilantes che sorveglieranno la sessantina di parcheggi negli intorni di piazza Prinetti e nel nuovo silos di piazza degli eroi. Gli ausiliari non sono stati assunti dal comune ma sono un benefit chiesto dall'amministrazione e la nuova società che ha preso in gestione dal primo gennaio i parcheggi a pagamento della città. Per venire incontro ai cittadini, spiega il sindaco Andrea Massironi, abbiamo rimodulato le tariffe consentendo il pagamento della sosta anche solo di mezz'ora. Quindi a tariffe invariate i meratesi potranno parcheggiare l'auto mezz'ora e pagare solo 50 centesimi. A fronte di ciò non siamo però più disposti a tollerare che le auto rimangano per ore parcheggiate spendendo poco o niente. L'ingresso in servizio degli ausiliari è stato chiesto dal sindaco anche in virtù del fatto che il corpo di agenti di polizia locale è sottodimensionato. Ci servirebbero 15 vigili, continua il primo cittadino, ne abbiamo in servizio 8. E bisogna coprire tutto dai servizi di assistenza agli studenti che attraversano prima di entrare a scuola a quali dei funerali. Alla luce di questa situazione ho preferito concentrare dall'anno scorso l'azione degli agenti sui controlli ai veicoli senza revisione e assicurazione e limitare le verifiche sulle auto in sosta. Questo evidentemente ha creato una situazione anomala in città. A sistemare le cose ci penseranno gli ausiliari, conclude Massironi, che lo ricordo possono solo fare multe per divieto di sosta e che in giorni e orari diversi controlleranno dal primo marzo il rispetto delle regole. Grazie. Grazie.